Manteniamo la nostra posizione vigile e cauta anche di fronte agli impegni confermati da Eni alla Commissione Attività Produttive all'Assemblea regionale siciliana. Lo dice il sindaco di Gela, Domenico Messinese, dopo l'audizione di ieri a Palazzo dei Normanni, in cui l'azienda del cane a Sezampe ha ribadito di non voler abbandonare il territorio. Adesso si investono subito i 32 milioni di euro di compensazioni, ha dichiarato il primo cittadino che ha proposto il coinvolgimento nella programmazione del Consiglio Comunale e dei parlamentari regionali di Gela. Bisogna perseguire una politica di opere pubbliche, ha continuato Messinese, in grado di tamponare l'emorragia occupazionale e dare decoro alla nostra terra. Per questo è necessario andare anche oltre il protocollo d'intesa con nuovi investimenti dell'Eni e le autorizzazioni chieste dall'amministrazione comunale al Governo centrale per avviare un processo virtuoso sull'espletamento delle bonifiche. All'audizione di ieri erano presenti alcuni consiglieri comunali, tra cui Salvatore Gallo, delegato dal Presidente Alessandracia, la deputazione regionale eletta in provincia di Caltanissetta, mentre non c'era alcun componente del Governo regionale, nonostante fossero stati invitati il Presidente della Regione e quattro dei suoi assessori. Un'assenza che pesa su una vertenza dolorosa, ha detto il Sindaco, e che spero non esasperi gli animi di chi finora si è alimentato di fato e speranze. L'amministrazione comunale resta al fianco dei lavoratori in attesa che, nel più breve tempo possibile, si diano risposte concrete e non parole vuote di sostanza. Luigi Ciarrocchi, project manager di Eni a Gela, ha detto che Eni ha rispettato pienamente gli impegni presi nel protocollo del novembre del 2014. A oggi è investito a Gela 200 milioni di euro. Una società che pensa di lasciare Gela non investe certamente 200 milioni di euro. L'Eni, ha continuato Ciarrocchi, ha sostenuto che nel 2015 sono stati 1.062 lavoratori dell'indotto collocati a fronte dei 900 previsti nel protocollo del 2014. Dal novembre di due anni e dietro, ad oggi, sono stati aperti a Gela 53 cantieri per il risanamento ambientale, la manutenzione e la produzione. Per quanto riguarda la refineria, Ciarrocchi ha sottolineato che Eni sta portando avanti l'ingegneria di dettaglio, utilizzando altre risorse umane, e che questo mese apriranno nuovi cantieri, che impegneranno un centinaio di lavoratori per lo smontaggio degli impianti, anticipando i tempi legati alle procedure burocratiche, assumendosi così un rischio industriale. Rassicurazioni, anche sui 32 milioni di euro garantiti da Eni come compensazione al territorio di Gela, finora sono stati spesi 150 mila euro. Altri 150 mila euro sono già destinati ad interventi sul porto.